Siamo con Emanuele Baldolini, dirigente dell'Aspomezia Lorenzum. Una gara difficile, si sapeva, fino a metà secondo tempo, però si può dire che è ancora arrivata in partita. Voi siamo un po' nervosi dalla gara? Diciamo che la gara era comunque difficile sin da l'inizio. Abbiamo messo sia il valore della squadra che andavamo a incontrare, sia i giocatori che avremmo incontrato. I ragazzi hanno giocato al loro meglio. Il problema è diventato, a parte, come ripeto, un incontro stesso, comunque a mio avviso, e qui lo denuncio pubblicamente, un comportamento assurdo da parte del duo arbitrale, che non capisco dei rossi soltanto per aver preferito parola in maniera educata. Cioè una frase tipo, non fischi mai, non vedo che cosa c'è di insulto o riguardose confronti di arbitraggio. Io posso dire una cosa, sono 15 anni che sono nel campo del calcio a 5, ho lavorato nel calcio a 11, ho lavorato in altri sport. Sento spesso e volentieri chiamare al comportamento più adeguato le società, i ragazzi, i dirigenti stessi che stanno in panchina. Io quello che dico è soltanto e tante volte bisognerebbe avere anche una certa collaborazione da parte dei direttori di gara. Era una gara, secondo me, potrebbe essere una gara bellissima, perché comunque i ragazzi erano venuti qui per cercare di fare bella figura, avevano un bel risultato di sabato scorso. E per il primo tempo, di verità, nonostante il risultato ci penalizzasse sicuramente contro a zero, però continuiamo a giocare. Noi abbiamo dei ragazzi dell'Under 21 che stanno cercando di dare il meglio e poter comunque emergere in questo sport. Io, ripeto, mi è dispiaciuto impazzire vedere un comportamento, a mio avviso, mi prendo tutta la responsabilità del caso, irriguardoso nei confronti della nostra società. Forse il termine giusto è questo. Un comportamento irriguardoso nei confronti di ragazzi che tutta la settimana, come tutti i ragazzi che poi vanno parte del movimento, si allenano, fanno sacrifici, ci sono ragazzi che lavorano, ragazzi che studiano, e vedere che una partita viene rovinata soltanto per maniera di proclamismo o soltanto perché una frase normalissima ci può offendere. Io chiedo scusa, rimango basito e accetto il risultato. Complimenti al Ciampino, complimenti e ringrazio la società per la bella accoglienza che ci hanno dato, tutto quanto. Peccato per lo spettacolo mancato, come ho detto fino ad adesso, chiedo scusa anche allo sfogo, però vorremmo anche capire il nostro punto di vista, non nostro in quanto Kizpo Mezzia, ma nostro in quanto di un settore che cerca di emergere, che cerca comunque di fare qualcosa di bello. Signori, questo è il massimo campionato regionale. Non stiamo giocando in Serie D o in Serie C1 o in Serie C2, che ancora ci sono magari le situazioni che vanno sistemate, vanno limate. Questo è il massimo campionato regionale. e vedere un comportamento del genere da parte di un signor arbitro, non mi permetto assolutamente di mancare il rispetto, un signor arbitro confronti, ripeto, di frasi... Guardi, lo può domandare anche a dirigenti del... A dirigenti del Ciampino stesso hanno detto, guarda, abbiamo sentito frasi normalissime, cioè frasi non fischi mai. Un ragazzo della panchina non è che ha detto un parolaccio improprio, ha detto non fischi mai. Allontanare così mi sembra sciocco. Ecco, forse il teme è giusto. Oggi abbiamo visto che tante volte la sciocchezza può più che lo sport. Tornando, diciamo, al campionato, la prossima in casa contro l'Albano, diciamo, permette almeno dalla possibilità di provare a rialzare subito la testa? Ma assolutamente. Questo non era... Io chiedo scusa, non era questa la partita da vincere noi. Questa era una partita e noi dobbiamo venire qui e cercare di onorare il campionato. Il nostro campionato comincia sabato e sono sicuro che dal primo all'ultimo saremo pronti a fare fronte comune e affrontarlo con la giusta dignità che merita sia il campionato che la nostra società stessa. Il nostro campionato comincia sabato, abbiamo l'Albano, società comunque storica, società comunque importante, che ha fatto tanto. All'andata abbiamo pareggiato in casa loro 4 a 4, quindi squadra ostica. Speriamo di riuscire a... Malgrado le assenze che avremo, di riuscire a fare quello che speriamo tutti di fare. Perfetto, grazie. In bocca al buo per la prossima. Grazie. Grazie.